L'Udinese si prepara ad affrontare il doppio impegno contro la Milano del Calcio, prima con il Milan e poi con l'Inter. Sabato il primo avversario sarà la formazione allenata da Filippo Inzaghi per un Udinese che vuole dare conferme dopo il pareggio ottenuto sul campo del Chievo Verona. Di fatto a Sprazi si avvista una buona Udinese che ha archiviato quelle che sono state le due sconfitte precedenti contro Parma e Palermo. Però per attendere le conferme bisogna aspettare la sfida contro il Milan per un Udinese che comunque con concentrazione, con grande carattere e grinta si prepara al match con la formazione rosso-nera. Seppur ci sono diverse defezioni nell'undici di Andrea Stramarcioni, infatti non ci saranno né Mollavaghe né Ertò, ormai da diverso tempo fermi ai box per infortuno. Da valutare invece proprio in questi giorni le condizioni di Domizzi per un problemino alla piede con Domizzi che era sulla rampa di lancio per il possibile rientro proprio contro il Chievo Verona, poi è stato fermato da questo infortunio e quindi sarà da valutare la condizione anche di Domizzi. Di sicuro rientrerà invece dalla squalifica il centrocampista Ghilerme per un Udinese che comunque vuole tornare al successo, soprattutto di fronte al pubblico amico. Mancano sette gare al termine di questo campionato, di queste sette gare quattro sono da giocarsi al Friuli e tre invece lontano da casa per un Udinese che vuole chiudere comunque nel migliore dei modi, anche perché da queste gare, soprattutto quelle contro Milan ed Inter, passeranno anche scelte e valutazioni in vista della prossima stagione. Un Udinese che non vuole fallire questi appuntamenti partendo dalla gara contro il Milan, un Milan che sappiamo tutti insomma è reduce da una stagione altalenante in questo campionato, un Milan che naviga nei quartieri medi della classifica, però ha sempre un avversario di prestigio, un avversario che l'Udinese non sottovaluta, anzi si sta preparando nel migliore dei modi la squadra bianconera senza giorni di riposo in questa settimana, visto che è considerato che si giocherà nell'anticipo del sabato. L'obiettivo è quello di tornare al successo, l'obiettivo è quello di tornare a vincere proprio allo stadio Friuli.